Ciao ragazzi, video veloce veloce per andare a spiegarvi come si fa a vedere quando un oggetto va via dal negozio oggetti perché l'avevo già fatto questa roba qua, però tanti me lo stanno continuando a chiedere quando è che va via Snoop Dogg, se diventerà raro Snoop Dogg, intanto oggi nello shop è uscito The Weekend che faceva parte del Pass Festival, quindi uno magari pensava i cantanti del Pass non tornano più quindi sono esclusive, mentre i cantanti che escono nello shop come per esempio, non lo so, Eminem oppure Ariana Grande o Marshmallow continuano a tornare, invece no, da oggi abbiamo scoperto che anche i cantanti del Festival tornano nello shop, quindi Snoop Dogg sicuramente non diventerà raro, raga non è che perché è un rapper però che è bella la skin e diventerà raro come Travis Scott, certo la possibilità che Snoop Dogg domani faccia una cazzata gigantesca e che quindi banna una skin esiste sempre, però è davvero improbabile e comunque come si fa a vedere quando va via, entrando dentro un oggetto qui c'è ottieni V-Buck regala, fa parte del bundle Bidibibodibu, visualizza bundle, sotto raga questo oggetto verrà eliminato dal negozio oggetti dalle ore 0059 del giorno 5-1-2025 quindi va via il 5 gennaio 2025, siamo a ottobre, quindi tutto, tra l'altro oggi è il 5 novembre quindi non ottobre, quindi tutto novembre, tutto dicembre e poi i primi giorni di gennaio va via due mesi pieni, rimane ancora, quindi Snoop Dogg va via quel giorno lì gli incredibili per esempio, la dottoressa qua va via 9 novembre, quindi fra 4 giorni se prendiamo, non lo so, una skin che magari va via oggi, vediamo se esiste scatenata, vediamo un po', va via il 7 novembre, quindi dopo domani Razor qua va via il 6 novembre, quindi stanotte, a mezzanotte diventa 6 e a luna, quando c'è l'aggiornamento del negozio oggetti, va via raga non confondetevi, perché domani questa skin, domani mattina alle 8, non c'è più non è che leggete 6 novembre e vuol dire che va via il 6, tutto il 6 novembre rimane no, alle 2 di notte o all'una, a seconda del fuso orario, questa skin va via quindi voi fate sempre meno 1, 6 novembre va via, o vi svegliate a mezzanotte e la scioppate se no, alla mattina, quando andate alla scuola, questa skin qua non la vedete già più e quindi Snoop Dogg rimane fino al 5 di gennaio 2025, quindi rimane praticamente due mesi non lo so, The Weekend, quando è che va via? L'8 novembre, questa qua rimane 3 giorni e poi va via raga, era semplicissimo, like ozzo al video, mi raccomando, per supportarmi e ancora per farlo alla massima potenza, VanderTattinottoCrippi, codice creatore sempre attivo se lo usate raga, mandatemi la clip dei video sui social che andate in descrizione perché potete vincere skin, gift card, pass battaglia, insomma quello che volete durante i contest ciao ciao